Io ho un compito adesso di cercare di inquadrare che cosa può fare la regolazione, i regolatori dell'energia su questo difficile e complicato campo delle smart grid. Abbiamo sentito veramente tante cose. Il punto di partenza di tutto questo discorso sono sicuramente gli obiettivi fissati in sede europea per il raggiungimento di un nuovo mix di fonti energetiche con un obiettivo al 20% sulle fonti rinnovabili per tutta l'energia e anche un miglioramento dell'efficienza energetica dell'ordine del 20% al 2020. Lo scenario è particolarmente complesso, ha un numero di variabili enorme di cui ricordo soltanto quelli che sono state già dette l'aumento tumultuoso, come dimostrano i dati che ci ha fornito Enel della generazione diffusa che potrebbe comportare anche problematiche di intermittenza serie, soprattutto per impianti da fonte eolica di potenza. C'è una forte iniziativa sull'efficienza energetica che comporta, come vedremo, interventi sugli usi finali e anche potenzialmente sulle perdite di rete. E poi ci sono via via le cose che stanno venendo fuori tra cui certamente lo sviluppo dei mercati del carbonio, l'andamento dei prezzi della CO2, lo sviluppo tecnologico. Sono stati richiamati i veicoli elettrici che nel giro di pochi anni potrebbero disegnare nuove applicazioni che oggi sono pochissimo diffuse. Tutto questo in un quadro in cui, per quanto riguarda la liberalizzazione dei settori, c'è stato un fortissimo passo avanti per l'approvazione, l'entrata in vigore del cosiddetto terzo pacchetto sulla liberalizzazione a settembre 2009. E anche, voglio ricordare un altro punto importante del quadro comunitario, il cosiddetto set plan, cioè il disegno dello sviluppo tecnologico in seudo europea che interessa anche i settori dell'elettricità. Quindi diciamo uno scenario veramente complesso. In questa situazione, quale può essere il ruolo della regolazione? Sono andato a prendere questa frase che mi sembra molto importante da un rapporto a cui voglio dedicare qualche minuto di Ofgem. Ofgem è il regolatore dell'energia elettrica e del gas in UK, per la precisione in Gran Bretagna, e dice che il livello di incertezza del futuro e della direzione che prenderanno le reti è senza precedenti. Veramente siamo di fronte a un settore che tutti ritenevano maturo, di cui non si pensava di poter parlare di innovazione, oggi siamo in una situazione totalmente rovesciata rispetto alle aspettative. Dice il regolatore britannico, pensiamo che sia importante tenere tutte le opzioni aperte, incoraggiare i distributori a innovare e assicurare un quadro regolatorio sufficientemente flessibile per adattarsi ai cambiamenti. Questo certamente non sarà semplice disponendo di strumenti quali il Price Cap, tant'è vero che la stessa Ofgem ha avviato un progetto particolarmente ambizioso di revisione della metodologia del Price Cap nei prossimi anni, i cui atti sono disponibili sul sito di Ofgem. Ma entriamo un attimo in questo rapporto Lens di Ofgem. Lens vuol dire Long Term Electricity Network Scenario. Loro hanno, attraverso un processo molto partecipativo che ha comportato anche tre consultazioni, diversi seminari con i soggetti interessati, sia distributori che consumatori che produttori, hanno disegnato alcuni scenari. Qui per semplicità nel riporto 4, in effetti ce ne sarebbe anche un quinto. Il primo scenario è quello di sviluppo tradizionale, quindi ancora il classico flusso dall'alto verso il basso, dalla rete di trasmissione verso la rete di distribuzione. Gli scenari 2, 3 e 4 disegnano possibili evoluzioni del sistema elettrico in modo sempre più sofisticato, dove vedete questa indicazione qua comporta regolazione della domanda, quindi in questo caso ancora limitata prevalentemente all'alta tensione, ma poi si estende anche la media tensione fino ad arrivare alla bassa tensione, oppure la diffusione delle fonti rinnovabili nei diversi livelli del sistema. Il rapporto è molto complesso, non sarebbe impossibile sintetizzarlo, ma quello che mi sembra interessante è che, tralasciando per un attimo lo scenario 1, che è quello che si chiama business as usual, continuare così le cose come stanno adesso, quindi con una frazione ancora molto ridotta di generazione distribuita, questi tre scenari non sono esattamente le cose che noi ci andiamo a pensare. Il terzo assomiglia a quello su cui stiamo lavorando, in cui il ruolo centrale dell'innovazione è svolto dai distributori. Ma forse non è l'unico, questo scenario off-gem ce ne mostrano anche, c'è un secondo, questo numero due, dove invece il ruolo centrale sarebbe gestito dalle società di servizi energetici e un altro invece più aggressivo, più avanzato, dove il ruolo centrale potrebbe essere addirittura a quello dei consumatori o di gruppi di consumatori, ad esempio i consumatori consorziati in un condominio o in un piccolo quartiere. Ripeto, non c'è tempo certamente qua per entrare in queste cose, ma ho trovato questo report assolutamente interessante, anche perché ha un notevole apparato quantitativo e mette in correlazione la probabilità che uno di questi scenari si manifesti con il prezzo della CO2 al 2050 sui mercati del carbonio e colloca i tre scenari in tre fasce, fino a 60 euro per tonnellata, fino a 100 euro per tonnellata e oltre 100 euro per tonnellata. Quindi evidentemente il segnale economico dei mercati della CO2 giocherà un ruolo molto importante, questo almeno è il segnale che ci viene da questo studio, sul tipo di evoluzione e di conseguenza sul tipo di sistema elettrico che ne potrà derivare. Se di fronte a questo scenario di cui il rapporto britannico ci dà un panorama al 2050, forse mi sono scordato di dirlo, particolarmente vasto, particolarmente ampio nelle possibilità, cosa stiamo cercando di fare noi qua in Italia come regolatore dell'energia? Alcune cose sono state già citate, è in vigore dal primo di gennaio del 2009, quindi da un anno, il nuovo testo integrato delle connessioni attive che ha ridisegnato completamente sia le procedure tecniche che quelle economiche e questo forse in parte spiega anche alcuni andamenti dei numeri che ci ha presentato l'ingegnere Di Marino. Stiamo producendo, secondo una legge che lo prevede, un monitoraggio annuale della generazione diffusa e in particolare è stato richiamato lo studio sull'impatto delle reti elettriche che abbiamo commissionato a Politecnico e che è stato pubblicato in allegato alla Delivera 25 dell'anno scorso. Vorrei citare come molto importante per il tema di oggi, cioè il ruolo che può avere l'Information Technology per un futuro più green. L'ultima delibera adottata nel 2010, quindi recentissima, in tema di impianti eolici, dove proprio in considerazione degli sviluppi che le tecnologie dell'ICT hanno avuto, si spinge, si cerca di spingere il mondo della produzione eolica verso una maggiore previsione della propria produzione. Quindi iniziamo a uscire dall'idea che l'eolico è non programmabile. Sarà forse poco programmabile, scarsamente programmabile, ma qualcosa si può fare. Questa delibera disegna un futuro su questo argomento. L'autorità poi è piuttosto impegnata sul tema dell'efficienza energetica, col sistema dei certificati bianchi che non c'è tempo qui di spiegare, ma fondamentalmente realizzano degli obiettivi di risparmio energetico o di trasferimento verso fonti energetiche più efficienti. Abbiamo anche iniziato a lanciare alcune iniziative che possono andare sotto il titolo della demand response per i clienti domestici. È stato già richiamato il fatto che dal 1 luglio 2010, secondo uno scaglionamento che sostanzialmente al 1 luglio 2010 prevediamo, ci sarà un terzo dei clienti italiani interessati e entro la fine del 2011 tutti, verrà applicato un prezzo biorario di maggior tutela. Quindi, senza più il vecchio sistema della scelta dell'opzione bioraria, automaticamente le famiglie si troveranno una bolletta che tiene conto separatamente dei consumi notturni e diurni, feriali e festivi, secondo uno schema biorario. In corrispondenza abbiamo avviato anche una consultazione di cui stiamo per trarre in queste settimane le conclusioni per la modulazione per fasce del limite di potenza. Cosa vuol dire? Oggi i contratti domestici sono tarati a 3 kilowatt, con una franchigia di 10% o 3,3. Alcuni distributori hanno già alzato questa franchigia, ma l'hanno alzata su tutte le ore del giorno. Secondo noi, invece, è importante, in corrispondenza dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi biorari, permettere anche un utilizzo più concentrato delle apparecchiature elettriche nelle ore in cui il prezzo è più basso. Quindi rimuovere selettivamente, questa è la differenza, per fasce orarie il vincolo del limite di potenza a 3 kilowatt, alzandolo a un valore che stiamo cercando di identificare. Naturalmente ci sono aspetti di rete locale, ci sono aspetti di sicurezza, ci sono diverse cose che vanno tenute presenti, c'è un documento per la consultazione che potete leggere sul nostro sito. Questo in Italia, poi l'autorità partecipa ad alcune iniziative a livello europeo. La prima, certamente, di cui vi voglio dire qualche parola, è quello che chiamiamo position paper di ERGEG. ERGEG è l'associazione dei regolatori europei dell'energia. Inoltre partecipiamo a due iniziative molto importanti, una condotta dalla DG Research della Commissione, che si chiama European Industrial Initiative sull'Electricity Grid. Questo io trovo che è molto, molto importante, dove la parola chiave è industrial. La DG Research finora ha amministrato i fondi dei cosiddetti programmi quadro di ricerca, compreso l'FP7, di cui abbiamo sentito ancora nelle presentazioni precedenti diverse applicazioni. Ecco, la DG Research sta facendo un passaggio che trovo veramente importante, che è quello di arrivare sul piano industriale attraverso progetti dimostrativi. Questo è molto diverso rispetto all'R&D tradizionale e la possibilità di avere progetti dimostrativi sul tema delle smart grid rientra in quel set plan che ho detto all'inizio ed è guidata oggi dalla DG Research, che sta attivando un notevole lavoro su questo fronte che ha interessato l'Associazione Europea dei Regolatori e anche noi italiani in particolare. Un secondo versante, invece di carattere, se vogliamo, non industriale, ma più legato ai ruoli e alle responsabilità dei diversi attori in questo settore, è la Task Force sulle smart grid, recentemente istituita da un'altra DG della Commissione, la DG Tren, trasporti ed energia, a cui pure ERGEG collabora più che attivamente. Infine c'è un versante molto importante che è quello della collaborazione con gli enti di standardizzazione. Abbiamo stipulato come regolatori europei un memorandum of understanding, un protocollo di intesa con il CENELEC e si sono già mosse alcune iniziative, alcune con buoni risultati, altre forse un po' meno ancora, ma speriamo nel futuro, per allineare regolazione e standardizzazione. Ho parlato di efficienza energetica, vi do qualche numero. Siamo arrivati nell'anno di riferimento 2008 a superare abbondantemente il milione e mezzo di TEP certificate di risparmio energetico. Vedete da questo grafico che l'andamento degli obiettivi, colonnine verdi, fissati dai decreti ministeriali, è particolarmente esponenziale e la crescita dei risparmi effettivamente certificati rispetto agli obiettivi non è riuscita a seguire questo andamento così esponenziale, che tra l'altro nei prossimi anni conoscerà ancora un'ulteriore impennata. Quindi nel 2008 abbiamo avuto un ammanco di risultati rispetto agli obiettivi che è stato sanato, se volete, con gli avanzi degli anni precedenti. Ma questo potrebbe non succedere negli anni futuri. Quindi adesso nel 2010, a fine maggio, vediamo i risultati dell'anno 2009 e potrebbero esserci i primi casi di mancato rispetto degli obiettivi. Questo fondamentalmente perché la curva degli obiettivi ha un'impennata veramente acuta. Una buona notizia però è che la quota di titoli di efficienza energetica, cosiddetti certificati bianchi, scambiati in borsa è cresciuta moltissimo negli ultimi anni. Si è posizionato intorno alla metà complessiva dei titoli emessi. Questo vuol dire che le società di efficienza energetica che sviluppano progetti di efficienza energetica, si fanno certificare titoli e poi li vendono a cosiddetti soggetti obbligati, è in crescita e quindi in sostanza il meccanismo ha innescato quel processo industriale che si voleva dire. Richiamo anche brevissimamente questo fatto che ancora prevalentemente la maggior parte dei titoli emessi si riferisce a riduzioni di energia primaria in ambito degli usi elettrici del settore civile e la maggior parte riguarda le cosiddette schede standardizzate, cioè quelle applicazioni più semplici per le quali con delle medie statistiche è stato possibile valutare un per l'altro il risparmio energetico su base statistica. Però ci sono, e questa è la cosa destinata a evolvere, anche schede analitiche che richiedono una misurazione in campo seppur in un algoritmo predefinito o addirittura dei progetti a consuntivo dove l'algoritmo viene proposto dallo stesso soggetto proponente che oggi come oggi riguardano una frazione piccola di titoli emessi ma che si dovrà sviluppare se si vogliono raggiungere quegli obiettivi. Cioè la crescita così impetuosa degli obiettivi potrà essere soddisfatta soltanto sviluppando ancora di più il risparmio energetico nell'industria. Ho accennato prima al position paper di Ergeg. Ergeg è il gruppo dei regolatori per l'elettricità e il gas riconosciuto dalla Commissione Europea come advisory board. Ha pubblicato in dicembre 2009 un documento che trovate a questo indirizzo internet, un documento di consultazione sulle smart grid, i cui obiettivi sono promuovere a livello europeo la discussione sullo sviluppo delle reti elettriche in combinazione con ICT perché fondamentalmente smart grid vuol dire rete elettrica a cui viene sovrapposto uno strato di ICT e anche valutare modalità per la loro regolamentazione e sviluppo in senso di roll out. I messaggi chiave, abbiamo un documento di 50 pagina, ma se mi posso permettere abbiamo contribuito anche noi italiani a scriverlo, anzi abbondantemente forse, sono fondamentalmente due. La prima è la possibilità, l'intenzione o il suggerimento se vogliamo di introdurre forme di regolazione incentivante per le smart grid. Regolazione incentivante vuol dire stabilire un indicatore o più indicatori di merito che mi danno il valore dell'obiettivo da raggiungere e collegare una qualche frazione di tariffa all'effettivo raggiungimento o superamento di questi obiettivi. È stato già fatto in Italia sulla qualità del servizio, con mi sembra abbastanza buoni risultati e quindi l'idea di FON, è stata poi fatta non solo in Italia, l'Italia è stata il primo paese che ha portato avanti questo discorso ma adesso ormai è piuttosto diffuso in Europa, e l'idea è di provare a ripeterlo ma con una complessità assai maggiore per le smart grid. Il secondo messaggio forte è quello dell'attività di standardizzazione. Per quanto riguarda la regolazione incentivante, il documento propone un approccio centrato sull'utente, user centric, centrato sull'utente, quindi esamina quali potrebbero essere i servizi che le reti potrebbero rendere disponibili rispetto all'esigenza degli utenti. Utente della rete si intende un consumatore ma anche un produttore, un retailer, una ESCO, eccetera. E propone alcuni indicatori di riferimento per la valutazione dei benefici che potrebbero essere tradotti successivamente in forme di regolazione incentivante. Andiamo da indicatori di sostenibilità, indicatori di capacità delle reti, indicatori di sicurezza e qualità, indicatori di efficienza e servizio e così via. Dicevo che un secondo messaggio importante è quello della standardizzazione. Qui c'è una forte puntuale precisazione rispetto alla preferenza per protocolli non proprietari. Quindi mi sembra che tutto quello che è stato detto prima di me relativamente all'utilizzo di protocolli pubblici, noti e più possibili diffusi, vada assolutamente in questa direzione. Perché è l'unico modo per garantire l'accesso a tutti i consumatori e a tutti i distributori indipendentemente dalla loro dimensione. Aggiungo una piccola riflessione sul rapporto tra smart grid e smart metering. In generale, questo è una fonte di un consulente che ha collaborato con noi nel processo di stesura del documento, lo smart metering viene considerato attualmente una parte dello smart grid, ma certamente una parte che non lo esaurisce assolutamente. Io aggiungo che le smart grid sono fondamentalmente un mondo del tempo reale e in questo senso richiamo le cose che sono state dette dall'ingegnere Delfanti rispetto ai tempi di intervento delle diverse protezioni. Lo smart metering oggi in Italia abbiamo la migliore e più estesa applicazione planetaria, ma non è un mondo del tempo reale. Quindi dobbiamo far combaciare queste due cose rispetto a diversi tempi di reazione. Lo smart metering, per quello che so, io magari di marino ci può fornire qualche informazione, ma al massimo ci può fornire alcune reazioni di demand response dall'oggi per il domani, ma già in maniera piuttosto complessa. Quindi forse c'è anche da pensare a uno smart metering di seconda generazione. Concludo con alcune parole che ho sentito a una recentissima tavola rotonda dell'Ocse, perché come avevo aperto la mia presentazione richiamando quest'idea dell'innovazione senza precedenti che ci segnala Ofgem, così ho sentito degli americani, non proprio uno stato in via di sviluppo, farsi alcune domande a questa tavola rotonda dell'Ocse chiedendosi how smart is smart enough? Secondo me questa domanda è molto importante. Pensiamo ai veicoli elettrici, pensiamo alle soluzioni che ci possono essere per la diffusione dei veicoli elettrici, ci sono diverse possibilità. Cerchiamo un pochino di trovare soluzioni parsimoniose rispetto alle smart grid. Seconda domanda fondamentale, how will consumer respond? Noi oggi non lo sappiamo, certamente non lo sappiamo. La curva di domanda sul mercato all'ingrosso è particolarmente rigida. Pensate che meno dell'1% delle offerte di domanda hanno indicazioni di prezzo, meno dell'1% su base nazionale. Quindi la curva è assolutamente verticale. Come risponderanno i consumatori ai segnali di prezzo? In Italia adesso faremo questo grossa esperimento, grossa innovazione della tariffa bioraria. Per la verità la tariffa bioraria multioraria per fasce esiste già nel settore non domestico già da un anno o più sulla bassa tensione e da alcuni anni sulla media tensione. Ma alla fine sono queste, dice la domanda, are salient, sono queste le cose che contano o c'è qualcos'altro? Io per esempio penso che non dobbiamo forse guardare tanto la risposta di breve dell'elasticità della domanda ma alla capacità dell'innovazione tecnologica che i costruttori di apparecchiature potranno mettere come intelligenza nell'apparato d'uso in modo tale che non ci si debba preoccupare di vedere che ora è, se è cambiato il prezzo eccetera ma che tutto questo diventi in modo di fare il bucato normale a minor prezzo perché ci pensa la lavatrice. E infine una domanda che ancora fanno gli americani, qual è la struttura di investimento che funziona meglio e in particolare tutte queste cose devono ricadere sulla tariffa elettrica, sulla tariffa di rete come già oggi ricadono altri incentivi che sono stati richiamati prima e che certamente l'autorità ha segnalato che sono un po' eccessivi in paese in particolare fotovoltaico oppure non dovrebbero essere parte di un'azione complessiva del governo visto che toccano anche aspetti esterni alle grid, quali per esempio la protezione ambientale. Con queste domande che certamente non sono da poco, io ho terminato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.